Non è un momento fortunato per il Lagozzano, in particolare con i direttori di gara. Già mercolì con l'asse ci erano stati enormi polemiche, ma ieri a Castellanza è stato addirittura peggio. I Rossoblu hanno finito la gara in nove senza Schettino, anche lui espulso, e nel dopo partita c'è stato un altro rosso all'indirizzo di Gemelli. Monta la rabbia nella società Rossoblu. È successo di tutto, meritiamo più attenzione e rispetto a quello che filtra dalla stanza di Bottoni. Il match di Castellanza si era aperto dopo un minuto con la grande chance non concretizzata da Rao, innescato da Vono. Al quinto invece bravo Vagge a respingere la conclusione di Ibe, protagonista assoluto della partita. Al ventottesimo il primo episodio controverso. Rosso diretto a Mazzotti, probabilmente per proteste. Stessa sorte al trentunesimo per Vono, anche lui a reo di aver protestato nei confronti del direttore di gara. In doppia superiorità numerica la squadra di Mazzoleni spinge e trova il gol al quarantaquattresimo con il tappin vincente di Ibe dopo la parata di Vagge sul tiro di Cocuzza. Prima del riposo, altro cartellino rosso, questa volta aperto dai, autore di un fallaccio su Di Giovanni. Nella ripresa la formazione cusiana parte all'arrembaggio e dal settimo e la traversa a dire di no a Selleri e dal suo splendido colpo di testa. Il 2-0 che chiude i conti al trentaduesimo, quando Ibe non sbaglia l'appuntamento con la doppietta, concretizzando l'assist di De Rosa. Finale ancora nervoso, esposione per Schettino e nel finale anche per Gemelli quando la partita era già finita.